Ciao a tutti amanti dell'Urbex e benvenuti in questa nuova rubrica dal nome Urbex of Us. Vi rubo giusto qualche istante per spiegarvi cos'è questa rubrica e da dove nasce. Urbex of Us nasce da un'idea mia, ma soprattutto del Resna, che è un altro mio amico esploratore, e prende spunto da The Last of Us. Ma che cos'è The Last of Us? The Last of Us è un videogioco famosissimo per la Playstation 4, dove tra l'altro hanno girato anche una serie tv molto fedele al gioco, e voi vi chiederete, sì ok Marco, ma cosa c'entra un videogioco? Cosa c'entra The Last of Us con l'Urbex? Ve lo spiego subito. Praticamente The Last of Us è ambientato ai giorni nostri, ma in un mondo completamente abbandonato. Perché? Perché la razza umana, a causa di un virus, a causa di un fungo, come lo chiamano loro, è sull'orlo dell'estinzione. Quindi in poche parole il mondo è completamente abbandonato. E io, tramite il protagonista Joel, il protagonista di The Last of Us, vi porterò a tutti gli effetti ad esplorare questo mondo abbandonato. Scuole, strutture, ville, case, intere città completamente abbandonate. Ora che vi ho spiegato questo e vi ho spiegato cos'è Urbex of Us, sigla e video. Amanti dell'Urbex, non potevo non iniziare questa puntata con questa scena qua. Una bella esplorazione di una strada dove ci sono veicoli abbandonati, però un'esplorazione realizzata cavalcando un cavallo. Ma non è questa, purtroppo, ai noi, il tema di questa esplorazione. Io, come sempre, vi ricordo che se volete, e se naturalmente vi piacciono i nostri contenuti, più in generale il nostro progetto, potete lasciare un bel mi piace al video per supportarci, è completamente gratuito, ve lo ricordo. Inoltre potete seguirci sul nostro account Instagram, dove potete trovare foto, reel, aggiornamenti, news, i nostri movimenti. Insomma, seguiteci su Instagram se volete rimanere aggiornati a 360 gradi con Urbex MJ. Beh, signori, qui io potrei anche non dire niente, tanto penso abbiate già capito il livello dell'esplorazione di questa puntata di Urbex of Us. Io vi ricordo, naturalmente, che ci troviamo sempre nel videogioco di The Last of Us. Qui c'è il nostro protagonista, o meglio, uno dei protagonisti principali. Stiamo parlando di Joel. Ellie non mi ricordo, sinceramente, dove fosse finita in questo frangente del gioco. Comunque, vabbè, esploriamo anche senza Ellie. Questo non è un problema, poverina, Ellie. Comunque, ragazzi, avrete, amanti dell'Urbex, già capito il livello di questa casa abbandonata. L'ho definito io uno chateau. Uno chateau, beh, prima di tutto, vuol dire castello in francese. Però, in termini, diciamo, Urbex, uno chateau si definisce un postone, un castello, un villone abbandonato, appunto, in Francia. Io questa villa l'ho ribattezzata Villa Cervo, poi capirete il perché. Quindi, mi raccomando, state sintonizzati anche questa volta, in questa puntata. Beh, 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 qua, tra l'altro, possiamo notare la cucina niente male. Cioè, praticamente, è più grande la loro cucina rispetto a casa mia. Cavolo, solo la cucina varrà il prezzo di tutta casa mia. Poi andiamo al piano di sopra, ragazzi, eh. Quindi, ve lo ripeto, restate fino alla fine, perché questa esplorazione è veramente top. Qui arriviamo in quella che, a tutti gli effetti, penso e credo, fosse la sala da pranzo. Poi, ragazzi, amanti dell'Urbex, naturalmente, qualora dovessi sbagliarmi, dovete, dovete, non potete, dovete assolutamente correggermi nei commenti. Ecco, qui i lampadari forse sono l'unica cosa che peccano in The Last of Us, nelle puntate di Urbex of Us. Però, ragazzi, cioè, ma guardate... Ah, no, quello chi è? Boh, vabbè, poco importa. Ma guardate di cosa stiamo parlando, ragazzi. Cioè, ma che livello è? Che livello è questa puntata di Urbex of Us? Oh, e qui, amanti dell'Urbex, il ritrovamento con il articolo determinativo maiuscolo. Perché, guardate, non uno, ma ben due teste dei cervi arrampicate, no, appese, se così possiamo dire, alla parete. E c'è capitato un ritrovamento simile in una villa abbandonata. Lì, però, se vi ricordate, avevamo trovato, anzi no, tre teste, scusatemi. Comunque, vi stavo dicendo che in questa villa abbandonata reale, durante una nostra esplorazione appunto vera, abbiamo trovato la testa d'alce. Una testa d'alce, veramente un ritrovamento singolare, uno dei più strani, ma allo stesso tempo belli che abbiamo mai fatto in una villa abbandonata. Adesso, però, ragazzi, ve lo ripeto, tenetevi forte perché, come vedrete tra pochi secondi, eccoci qua, stiamo andando al piano di sopra. Cosa possiamo trovare al piano di sopra? Beh, quello che non abbiamo trovato al piano di sotto. Quindi al piano terra non abbiamo trovato stanze da letto, quindi di conseguenza al primo e ultimo piano di questa villa abbandonata, anzi di questo chateau, di questa villa del cervo abbandonata, troviamo, come vi dicevo poc'anzi, le stanze da letto. Stanze da letto, ragazzi, che, lo dico sempre, potremmo andare a dormirci tranquillamente, cioè qua addirittura non sembra neanche abbandonata. Ecco, il poster dei The Bash l'ho trovato anche in questa villa, se vi ricordate, l'avevamo trovato anche in altre esplorazioni. Però, come vi dicevo prima, ragazzi, in queste camere da letto ci si potrebbe tranquillamente dormire. Guardate, non sembrano neanche abbandonate. Cioè, veramente, è anche difficile commentare tutto questo splendore. In questa villa sicuramente non si vede il decay, non si vede l'abbandono. Perché, come vi dicevo poc'anzi, questa casa abbandonata in The Last of Us è praticamente ancora del tutto intatta. Purtroppo non riesco a vedere se c'è polvere. A parte le battute, amanti dell'urbex, questa è sicuramente una delle migliori abitazioni di The Last of Us. Naturalmente, come vi dicevo prima, il mondo, come saprete, ormai è abbandonato a causa di un fungo, a causa di un virus che ha quasi completamente sterminato il genere umano. E qui, tra l'altro, è anche un labirinto. Cioè, è un labirinto tra stanze da letto. Guardate, lì addirittura c'è un computer portatile. C'è un computer portatile. E ovviamente è difficile trovare oggetti del genere nelle nostre esplorazioni. Ovviamente perché, perché naturalmente, l'abbandono risale a tantissimi anni fa, nella maggior parte delle nostre esplorazioni. Siamo quasi giunti alla fine di questa puntata di The Urbex of Us. Io chiudo, vado a chiosare con questa camera da letto. Mamma mia, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Comunque, siamo andati a chiudere con una bellissima stanza da letto. Io vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Come sempre, amanti dell'Urbex, segnatevelo sul calendario. Mercoledì, ore 20.30, nuova puntata di Urbex of Us. Ciao!